Buongiorno a tutti, voglio ringraziare Johnny e l'Accademia Teologica Italiana per aver ospitato questa conferenza anche in modo virtuale. Non è semplice portare avanti una conferenza, un ministero come l'Accademia in tempi come questi che stiamo vivendo in quest'anno. Voglio ringraziare Sebastian e Johnny per il loro impegno in quello che stanno facendo per far sì che la Chiesa Italiana possa studiare e comunque continuare con i corsi dell'Accademia. Mi piacerebbe molto vederci faccia a faccia come l'anno scorso, però ovviamente non è possibile, però per me è veramente un privilegio essere un professore dell'Accademia Teologica Italiana, è veramente un privilegio partecipare in questa conferenza. Voglio ringraziare i nostri fratelli Rick e Daniel che si sono impegnati nel predicare la parola per noi in questi giorni. Sono veramente grato a loro, malgrado siano negli Stati Uniti, hanno mantenuto il loro interesse e amore per la Chiesa Italiana. L'estate scorsa Johnny mi ha chiesto di partecipare in questa conferenza, di affrontare l'argomento del cattolicesimo romano e di parlare di come evangelizzare i cattolici romani. Mi ricordo la prima volta che sono venuto in Italia per una conferenza. Mi sono trasferito in Italia nel 2010 dagli Stati Uniti, ma negli anni prima del nostro trasloco sono venuto in Italia, venivo in realtà in Italia quasi ogni anno per frequentare la conferenza Focus. E mi ricordo la prima conferenza che ho frequentato, sarebbe stato o 2006 o 2007, e l'oratore riportava i risultati di un sondaggio fatto tra diverse chiese italiane per quanto riguarda l'evangelizzazione nelle loro chiese locali. L'oratore parlava di tanti metodi diversi usati. Mi ricordo che prendevo appunti mentre lui parlava, pensando che alcune di queste idee per l'evangelizzazione fossero davvero utili. Volevo provare anche io a diffondere l'Evangelo utilizzando questi metodi usati in diverse chiese italiane. E poi il predicatore è arrivato alla fine del suo discorso, che non dimenticherò mai il risultato del sondaggio, il dunque del sondaggio. Lui ha riportato i risultati e poi ha detto, la conclusione è che niente funziona veramente. Niente funziona veramente. Riferendosi ai pochi risultati per quanto riguarda le conversioni in questo paese. E lui non lo diceva per scoraggiarci o per scoraggiare l'evangelizzazione, ma solo per sottolineare che l'Italia è un campo di missione duro, che richiede pazienza e fedeltà, con pochissimi risultati. Quando Johnny mi ha chiesto di parlare del cattolicesimo romano e dell'evangelizzazione dei cattolici romani in Italia, mi sentivo subito inadeguato. Sono in Italia da dieci anni adesso e dopo dieci anni sto ancora imparando tante lezioni sull'evangelizzazione. Però sono qua a Genova come uno dei fondatori della chiesa Lux Evangelica a Genova insieme al mio collega Matt Johnston e stiamo cercando di fondare questa chiesa proprio da capo. Mi impegno abbastanza ogni settimana per evangelizzare e quindi ho avuto un po' di esperienza evangelizzando in questo paese e non sono qua per dire ho trovato la pillola magica. Non ho scoperto la strategia perfetta né un metodo che garantisce risultati. Anzi, siamo tutti sulla stessa barca e capisco le difficoltà e voglio incoraggiarvi ad essere fedeli in questo compito di evangelizzare questa grande nazione. Oggi nel tempo che il Signore ci ha dato, anche se mi piacerebbe, non parlerò molto dei metodi che dobbiamo usare, che tipo di eventi dobbiamo avere in chiesa e non sarà un discorso pieno di consigli o suggerimenti pratici su come evangelizzare. Voglio piuttosto riflettere sull'evangelizzazione e il cattolicesimo romano da un altro punto di vista. Mentre parlavo con Johnny, mentre parlavamo di questa conferenza, lui mi ha chiesto di parlare di cattolicesimo romano, dell'evangelizzazione, dell'apologetica e della Bibbia. Quindi è un compito abbastanza generale che è importante per noi affrontare questi argomenti in una conferenza sulla missione della Chiesa. Oggi quello che voglio fare è di tornare alla base della nostra fede evangelica, il fondamento della nostra fede evangelica. I cinque sola della riforma e trarre delle implicazioni evangelistiche da questi cinque sola. Voglio parlare di come i cinque sola possono aiutarci a evangelizzare e dialogare con i nostri amici cattolici. Quindi questi cinque sola ci aiuteranno a evangelizzare. Voglio trarre delle implicazioni evangelistiche. E la mia logica è questa. Come stiamo imparando in questa conferenza? Il Vangelo è la potenza di Dio per la salvezza, secondo Romani 1,16. Non c'è un'arma più potente data a noi da Dio per sulla salvezza degli uomini che il Vangelo. Estoricamente il Vangelo biblico è stato riassunto chiaramente da queste cinque frasi breve. Sola scrittura in latino, sola scrittura in italiano, sola fide o sola fede, sola gratia o sola grazia, solus Christus o solo Cristo, e soli Deo gloria o solo a Dio la gloria. Queste cinque frasi sono usate per sintetizzare la verità biblica sul Vangelo che troviamo nella Bibbia, che è fondamentale, che è preziosa per noi. E queste cinque frasi non solo chiariscono il Vangelo, ma lo fanno sullo sfondo problematico dell'insegnamento della Chiesa Cattolica Romana. Gli evangelici impiegano queste frasi che prendono la distanza del pensiero cattolico, che difendono la fede biblica dall'errore. La mia logica dunque è questa. Se queste cinque frasi derivate dall'insegnamento biblico definiscono bene e veramente il Vangelo, non sono solo utili per prendere le distanze dal pensiero cattolico, non sono solo utili per difendere la fede, ma siccome riassumono il nocciolo del Vangelo, queste cinque frasi e i concetti biblici contenuti in ciascuno sono anche la potenza di Dio per la salvezza. Sono anche la potenza di Dio per la salvezza e quindi ciascuno è utile nell'evangelizzazione per guidare le nostre conversazioni, per aiutarci a capire che tipo di domande dobbiamo fare ai nostri amici cattolici, che tipo di messaggio dobbiamo sottolineare con queste persone. E mi rendo conto che dietro ogni italiano c'è un mistero, ognuno ha un legame diverso alla Chiesa Cattolica, ci sono alcuni che sono più praticanti e alcuni che sono meno praticanti e quindi non posso ovviamente affrontare ogni sfida che troviamo in questo Paese. Mi rendo conto che ci sono anche tanti che sono atei o credono, non credono nella Bibbia, non credono in Dio e il mio obiettivo è di parlare in un modo generale del Cattolicesimo Romano, affidando a voi il compito di capire come potete usare questi cinque sola nelle vostre opportunità specifiche. E quello che voglio fare è di parlare di diverse implicazioni evangelistiche, in realtà di soltanto quattro di questi cinque sola, lasciando fuori solo Dio gloria, non perché non è importante, ma perché il tempo non ce lo permette. Se non hai mai sentito parlare di questi cinque sola, sebbene non sia la mia intenzione di fare un'esposizione biblica di ciascuno, cercherò di riassumere brevemente ciascuno nel corso di questa retta che abbiamo insieme. Li riassumerò e poi voglio parlare di diverse implicazioni che ci aiuteranno in modo generale nella nostra evangelizzazione. E quindi vogliamo iniziare con sola scrittura o sola scrittura. Sola scrittura, vogliamo spiegarla brevemente in un modo biblico. Sola scrittura vuol dire che la Bibbia è la sola autorità suprema, è l'unica autorità di fede, di dottrina e di pratica, tanto per l'individuo quanto per la Chiesa. Non stiamo dicendo che non possiamo imparare dalla tradizione, però la scrittura, in quanto ispirato da Dio, è vincolante per ogni coscienza. Esercita la sua autorità in quanto è divinamente ispirata. Secondo Timoteo 3, 16 e 17 dice, ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare la giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. La Bibbia è la parola di Dio e perciò non è un libro che ha bisogno di un'altra autorità ancora più elevata, ma la scrittura, in quanto è la parola di Dio, è autorevole, è la parola che viene a noi dal nostro Creatore. L'insegnamento della Chiesa Cattolica Romana, invece, sostiene che oltre alla Sacra Scrittura Dio parla per mezzo della Sacra Tradizione. Secondo i documenti della Chiesa, secondo il Concilio Vaticano, del Catechismo della Chiesa Cattolica, per dare certezza al significato della parola di Dio, all'interpretazione di queste due fonti di rivelazione divina, voglio dire la Sacra Scrittura e la Sacra Tradizione, l'interpretazione di queste due fonti, cioè questi due fonti contengono ugualmente la parola di Dio, l'interpretazione è affidata alla Chiesa, affidata alla Chiesa. Questa autorità interpretativa che possiede la Chiesa Romana è dovuta al fatto che fa parte dei successori degli Apostoli di Gesù Cristo, è dovuta al fatto che sono successori degli Apostoli di Gesù Cristo. E quindi vogliamo parlare delle implicazioni evangelistiche da questa dottrina che la Bibbia è la nostra unica autorità e noi non riconosciamo l'autorità della Sacra Tradizione o dell'interpretazione, o autorità interpretativa della Chiesa e del Magistero. Potremmo in realtà parlare per tutta quest'ora di come questa dottrina incide sulla nostra evangelizzazione, ma mi limito a tre implicazioni per l'evangelizzazione dei cattolici romani. La prima implicazione è che la Bibbia deve essere il punto di riferimento per le nostre conversazioni evangelistiche. Questo è il punto di partenza, la Bibbia deve essere il punto di riferimento. È inutile discutere dicendo la tua Chiesa pensa così e la mia Chiesa invece la pensa in questo modo. Non vogliamo mai dare l'impressione che quando parliamo di cose, di che cosa crediamo, che stiamo offrendo un'opinione della nostra Chiesa o un'opinione personale, come vediamo in tanti cattolici che seguono Cristo e la Chiesa in modo loro, mescolando cattolicesimo con opinione personale. In teoria condividiamo con i nostri amici cattolici il fatto che la Bibbia è la parola di Dio, quindi dobbiamo parlare piuttosto di che cosa dice la scrittura con una mente aperta. Mi ricordo una volta che parlava con l'amico, con il papà di un amico del mio figlio, parlavamo di Maria perché era vicino alla festa dell'Immacolata l'8 dicembre e parlavamo anche della verginità di Maria, la verginità perpetuale. E gli dicevo che nella Bibbia, nei Vangeli, vediamo che gli autori parlavano di fratelli e sorelle di Gesù Cristo, vale a dire altri figli di Maria. E lui mi ha risposto ma se la Bibbia è così chiara, come mai la mia Chiesa sostiene una cosa diversa? E poi abbiamo continuato a parlare di tante diverse differenze tra la Chiesa cattolica e la scrittura. Se io avessi detto la tua Chiesa sostiene che Maria è rimasta vergine e la mia Chiesa sostiene che ha avuto altri figli, la nostra conversazione sarebbe andata diversamente, credo. Ma siccome siamo partiti dalla scrittura, Dio ha usato questo per aprire una conversazione molto proficua sul Vangelo e su altre verità. Quindi dobbiamo usare la scrittura come punto di riferimento per dimostrare che la scrittura è la nostra autorità. Una seconda implicazione è che dobbiamo educare, insegnare gli ignoranti. Dobbiamo educare o insegnare gli ignoranti. Come tutti noi abbiamo visto, credo, l'effetto di mescolare la tradizione con la scrittura e di avere una liturgia piena di riti che cita la scrittura senza veramente impegnarsi a spiegarla, questo ha creato una grande ignoranza. C'è una grande ignoranza della Bibbia in questo paese e dobbiamo pregare e dobbiamo cercare opportunità per seminare la verità del Vangelo a lungo termine con le stesse persone. Così possiamo aiutarli nella loro ignoranza, insegnando la scrittura, leggendo la scrittura. Io cerco personalmente e prego che il Signore mi apra delle porte per evangelizzare le stesse persone a lungo termine leggendo la Bibbia. Invito persone a leggere la Bibbia insieme a me, dialogando con loro con una Bibbia aperta davanti a noi. Nella mia esperienza ho pure avuto parecchie persone che mi hanno detto che non possono leggere la Bibbia in quanto è un testo antico e poco chiaro, che deve essere interpretato dalla Chiesa, è l'unica speranza che qualcuno possa capirla. E noi abbiamo il privilegio, il privilegio di aiutare queste persone a capire che la Bibbia è la luce di Dio, e la luce di Dio è chiara, che illumina le nostre tenebre, che illumina il nostro sentiero, che rende saggio il semplice. La Bibbia è la parola di Dio rivolta a ciascuno di noi, perciò va letto e studiato. Io onestamente vedo difficile la conversione di un cattolico romano senza la possibilità di esaminare onestamente la scrittura più volte. Questo è il motivo per cui, come dicevo, dobbiamo pregare e dobbiamo cercare opportunità che vanno oltre una semplice conversazione con qualcuno. E non intendo negare l'utilità di queste conversazioni che abbiamo una volta, queste singole conversazioni, ma dobbiamo essere preparati ad affiancarci a loro a lungo termine, dialogando con loro, aiutandoli, invitandoli ad ascoltare insieme e studiare la scrittura, per avere una comprensione più profonda del Vangelo Biblico, e in base a questo possono valutare l'insegnamento della Chiesa Cattolica Romana alla luce della Bibbia. E poi una terza implicazione. Vogliamo incoraggiare i nostri amici cattolici a riflettere sull'errore di affiancare la sacra tradizione alla scrittura. Vogliamo incoraggiare la riflessione sull'errore di affiancare la sacra tradizione alla scrittura. A livello apologetico ci sono due metodi che possiamo utilizzare per fare questo. Possiamo chiedere qual è il rapporto tra la Bibbia e la tradizione. Cerchiamo di spronarli a considerare, ma cosa succede se un dogma o una tradizione è in contraddizione con la scrittura? A che cosa, se questo succede, a che cosa devo vincolare la mia coscienza? Alla scrittura o alla tradizione, alla Chiesa? Se una dottrina non trova conferma nella Bibbia, come per esempio il purgatorio o i dogma mariani, questa dottrina può veramente essere definita come una dottrina cristiana? Queste dottrine sono veramente dottrine cristiane? Un altro metodo può essere di dimostrare dal Nuovo Testamento che non dobbiamo aspettarci ulteriori sviluppi nel messaggio del Vangelo dopo l'età apostolica. A volte la sacra tradizione è vista come la parola di Dio attraverso i secoli che chiarisce che chi dà ulteriori sviluppi e rivelazione attraverso nel corso dei secoli. Però Giuda 3, per esempio, nella Bibbia, Giuda versetto 3 dice, o chiama la nostra fede, il nostro messaggio, è stata trasmessa ai Santi una volta per sempre. La fede è stata trasmessa ai Santi una volta per sempre. Potremmo anche pensare a Galati 1, per esempio. Galati 1, 8 e 9, che dice, ma anche se noi o un angelo dal cielo vi annunziasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anatema. Come abbiamo già detto, lo ripeto di nuovo anche adesso, se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. E notiamo che Dio non parla in un modo autorevole per mezzo dei successori apostoliche, perché già con la conclusione dell'età apostolica nel Nuovo Testamento, sia Paolo e Giuda, potremmo anche aggiungere Pietro, consideravano le verità trasmesse dagli apostoli insieme alle scritture dell'Antico Testamento, consideravano tutto questo una rivelazione completamente sufficiente e autorevole, fino al punto che non ci sarebbero stati ulteriori sviluppi promossi o da un apostolo ad una fonte celeste come un angelo. E quindi dobbiamo aiutarli che gli apostoli stessi vedevano il loro messaggio nel Nuovo Testamento come una rivelazione sufficiente, completa e autorevole, a tal punto che non dobbiamo aspettarci altri sviluppi nel messaggio. Questo è chiaro leggendo il Nuovo Testamento e possiamo aiutare i nostri amici cattolici a vedere questo proprio nella scrittura, usando versetti come quelli che ho appena citato. Questo è solo la scrittura, il fondamento della nostra evangelizzazione. Andiamo adesso a sola fede, sola fede. Per questo vi invito almeno a leggere Romani capitolo 3, versetto 25 e 26. Romani capitolo 3, versetto 25 e 26. Anzi, versetto 24 e 25. Romani 24 e 25 dice Ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue. Questo testo, questi versetti, riassumono benissimo tre dei cinque sola. In queste poche parole vediamo, senza usare la parola sola, i concetti di tre pilastri che proteggono il Vangelo Biblico e il concetto biblico della salvezza. Sola fede, sola grazia, solo Cristo. Ora vogliamo concentrarci su sola fede, come dicevo. In questo testo vediamo che siamo giustificati mediante la fede, siamo giustificati mediante la fede nel suo sangue. In questo testo è il testo cardinale più importante che ci spiega la dottrina della giustificazione per sola fede. La frase sola fede significa che siamo giustificati per fede soltanto. La fede è l'unico strumento tramite il quale siamo giustificati. Non ci sono altri strumenti, non ci sono altri mezzi insieme o affiancati alla fede che contribuiscono alla nostra giustificazione. La giustificazione ha a che fare con come siamo accettati da Dio, come abbiamo pace con Dio, come siamo salvati, come entriamo in relazione con Dio. La scrittura insegna che tutti noi abbiamo un problema legale davanti a Dio, abbiamo trasgredito la legge di Dio e meritiamo di essere puniti in quanto siamo colpevoli. La giustificazione è la buona notizia, è il rimedio di Dio, il giudice, a questo problema legale. E ci sono tre aspetti cruciali da riassumere. La giustificazione è una dichiarazione legale o forense che un peccatore colpevole è nel giusto davanti a Dio. È una dichiarazione dal giudice a livello forensico che io, colpevole, sono nel giusto davanti a Dio. Dio, anziché condannarmi, mi dona uno stato forense di innocente, di giusto. Il verdetto non è colpevole, il verdetto è giusto. È una dichiarazione, secondo aspetto, che si basa sulla perfetta giustizia di Cristo, imputato o attribuita al peccatore. I miei peccati sono imputati a Cristo e la sua perfetta giustizia è imputata o attribuita a me. E non è basata su qualcosa che ho fatto io o una giustizia interna a me. E questa dichiarazione avviene, o questo stato forense viene donato a me o a noi per fede soltanto, senza nessun contributo, opera, sforzo umano, sacramento o rito. Non è ricevuto per fede insieme alle opere o la fede insieme a qualcos'altro. La giustificazione avviene all'inizio della nostra conversione. O tu sei giustificato o non lo sei. Come Romani 5.1 dice, giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio, per mezzo di Cristo Gesù. La giustificazione, la nostra giustificazione non può essere aumentata dalle opere, non può essere migliorata, non può essere cresciuta. Avviene una volta all'inizio del nostro rapporto con Dio. E quando diciamo sola fede, non stiamo dicendo semplicemente che la fede è importante, stiamo dicendo che la fede è l'unico mezzo tramite il quale siamo giustificati. Nelle fonti cattoliche, come il Concilio di Trento o il Catechismo, il linguaggio e le spiegazioni forense mancano e l'imputazione è assente. Impiegando, la Chiesa Cattolica impiegando un concetto biblico come la giustificazione, la Chiesa Romana la definisce in un modo non biblico, come un processo attraverso il quale il peccatore, con l'ausilio della grazia divina, è resa praticamente più giusto tramite una giustizia infusa interiormente da Dio. Quindi la giustificazione secondo l'insegnamento cattolico è un processo attraverso il quale il peccatore è resa praticamente più giusto tramite una giustizia che infusa interiormente da Dio. La giustificazione avviene inizialmente mediante il battesimo come strumento ed è aumentata con le opere buone. Affiancato alla fede troviamo il battesimo, le opere buone e anche la carità. Questo è molto utile da capire quando parliamo dell'evangelizzazione, vogliamo parlare di diverse implicazioni evangelistiche da questa dottrina adesso. Oltre alla necessità, il compito di spiegare questa dottrina biblicamente dal testo biblico come ho appena fatto, voglio offrire alcune implicazioni per aiutarci nell'evangelizzazione. Vogliamo prima concentrarci sull'insufficienza della nostra giustizia e la perfezione della giustizia di Gesù Cristo. Quando evangelizziamo i nostri amici cattolici dobbiamo enfatizzare l'insufficienza della nostra giustizia e poi la perfezione della giustizia di Cristo. Una persona si rivolge a Cristo veramente perché ne ha bisogno. La fede nasce e sorge da una consapevolezza del proprio peccato. Il ravvedimento avviene nel cuore di chi riconosce la propria responsabilità. È lo standard perfetto della legge di Dio. Giacomo 2,10 dice chiunque osserva la legge, tutta la legge, ma fallisce in un punto solo e colpevole su tutti i punti. Chiunque osserva tutta la legge, ma la trasgradisce in un punto solo. È colpevole su tutti i punti. Tito 3 ci dice che Dio ci salva non per mezzo di opere fatte da noi in giustizia. Non sono le opere che facciamo noi nella giustizia del nostro cuore che ci salvano. Abbiamo bisogno di una giustizia che viene da al di fuori di noi. E quindi dobbiamo enfatizzare che questo standard di Dio, se vogliamo veramente procurarci la salvezza attraverso le nostre opere, Dio richiede un'ubbedienza perfetta. E quindi onestamente la nostra giustizia è insufficiente. Insufficiente. Anche le opere che magari potremmo fare in giustizia con l'aiuto di Dio. La giustizia di Cristo, imputata a noi, libera l'anima dall'angoscia, libera l'anima dall'incertezza di non sapere se ha fatto abbastanza, se la giustizia infusa a lui è sufficiente per piacere a Dio. La giustizia imputata è perfetta ed è il fondamento del nostro rapporto con Dio. Dio ci contempla in Cristo rivestito dalla sua giustizia e la giustizia di Cristo è dunque una roccia solida, una roccia di riposo dalle nostre opere. È un rifugio dalla condanna giusta dalla legge di Dio. E quindi vogliamo enfatizzare l'insufficienza della nostra giustizia e la sufficienza della giustizia perfetta di Cristo. Legato a questa implicazione, un'altra implicazione che voglio sottolineare, che ho trovato utile quando parlo con i miei amici cattolici, è di enfatizzare l'ordine della salvezza. Di enfatizzare l'ordine della salvezza. Cosa vuol dire? L'inizio del percorso verso cielo in questa vita è la giustificazione. E questo avviene per mezzo della fede soltanto. Questo è il nostro concetto della salvezza, come inizia. Il concetto della salvezza per un cattolico è il percorso sacramentale che dura tutta la vita, dalla nascita alla morte. È alimentato dalla fede, dalle opere, dai sette sacramenti, è assistito dall'intercessione di Maria e dai meriti dei santi ed è guidato dall'autorità della Chiesa e finisce nel purgatorio. È un percorso sacramentale alimentato da tutte queste cose. I sacramenti, l'intercessione di Maria e l'autorità della Chiesa e finisce nel purgatorio. Quindi, nella mia esperienza parlando con i cattolici, la salvezza è questo percorso e vedono la salvezza come una cosa ancora futura. E senza negare aspetti presenti e futuri della salvezza che si trovano nella scrittura, dobbiamo aiutare i cattolici a vedere che c'è un ordine della salvezza nella scrittura ben stabilito, che c'è un inizio ben chiaro e questo inizio ben chiaro è già nel passato per il credente. Il Nuovo Testamento parla della salvezza come una cosa nel passato per un credente. Penso, per esempio, a Efesini 2,8 che dice è per grazia che siete stati salvati. Romani 5,1 che noi siamo stati giustificati passato per fede. Abbiamo avuto accesso alla grazia di Dio passato. Gesù diceva chi crede in lui, Giovanni 5,24, passa dalla morte alla vita e non viene in giudizio. Tito 3,5 dice Egli ci ha salvati passato non per opere giuste da noi compiute ma per la sua misericordia. Il Nuovo Testamento ci spiega la salvezza come questo passaggio dalla morte alla vita, dal giudizio alla giustificazione, dalla condanna al perdono, dall'ostilità con Dio a pace con Dio, come eravamo figli dell'ira di Dio e ora siamo figli di Dio. E' questo aspetto passato che garantisce e dà certezza per quanto riguarda la salvezza nel giorno futuro. Se non avviene questo giorno nel passato per un credente, non c'è certezza di una salvezza nel futuro nel giorno di giudizio. Come dice la promessa di Filippesi 1,6, colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà al compimento fino al giorno di Gesù Cristo. Dio inizia qualcosa in noi e nel Nuovo Testamento gli autori si riferiscono a questo passaggio come una cosa nel passato e questo è proprio la giustificazione per sola fede. E poi voglio aggiungere una terza implicazione, che dobbiamo avere discernimento visto l'ecumenismo. È una cosa magari un po' inaspettata, però dobbiamo avere discernimento visto l'ecumenismo. Nella mia lettura e l'osservazione della Chiesa Cattolica odierna ci sono due sfide che vanno insieme. L'ecumenismo è l'universalismo e non abbiamo la possibilità di approfondire tutte e due queste cose, però l'ecumenismo vediamo nelle fonti cattoliche quando loro cercano di accogliere anche la Chiesa Evangelica sotto le sue ali, impiegando questi concetti di sola fede, sola grazia, solo Cristo, per dimostrare la sua vicinanza alla fede Evangelica e per smussare le differenze. In questo clima ecumenico in cui la Chiesa Cattolica, in questo clima ecumenico dobbiamo essere pronti a dimostrare che ciò che intende la Chiesa Cattolica con queste frasi, sola fede, sola grazia, solo Cristo, è diverso di ciò che intende la scrittura. E vi do una citazione solo per darvi un esempio di Papa Benedetto XVI, non il Papa presente ma quello prima, precedente, Papa Benedetto XVI nel 2008 diceva questo, ascoltate, perciò l'espressione sola fede di Lutero è vera se non si oppone la fede alla carità, all'amore. La fede è guardare Cristo, affidarsi a Cristo, attaccarsi a Cristo, conformarsi a Cristo, alla sua vita. E la forma, la vita di Cristo è l'amore, quindi credere e conformarsi a Cristo ed entrare nel suo amore. Quindi Papa Benedetto XVI diceva che l'espressione sola fede è vero che se non si oppone la fede alla carità e poi dà questa definizione di fede che la metà è buona, è guardare Cristo, affidarsi a Cristo, attaccarsi a Cristo, però poi lui aggiunge conformarsi a Cristo e alla sua vita e di conformarsi al suo amore. E questo ci dà l'opportunità di vedere come la Chiesa odierna cerca di avvicinarsi a queste cinque sola. In questo caso è molto importante capire l'ordine della salvezza. In questa citazione Papa Benedetto offre una definizione della fede, in qualche modo, che include anche la santificazione, il conformarsi a Cristo. Una definizione della fede che include le opere, carità, amore, conformarsi a Cristo. Cioè per lui sola fede, in questa frase, è compreso il processo in cui Dio ci conforma a Cristo nella nostra vita pratica. È come se il Papa dicesse affermo sola fede, affermo sola fede, se nel nostro concetto della fede includiamo le opere, la carità e il conformarsi a Cristo. Che non è ciò che voleva dire Paolo nel Nuovo Testamento. Confondere le fede e le opere, confondere l'ordine della salvezza è il motivo per cui i nostri amici cattolici non possono avere pace o certezza. Le opere non sono radice della nostra salvezza, non sono la radice della nostra salvezza, non sono il fondamento della nostra salvezza. Le opere seguono la giustificazione, seguono questo passo di salvezza nel passato. Le opere sono il risultato della salvezza, il frutto, l'effetto, non la radice della salvezza. Adesso vogliamo andare al prossimo sola, sola grazia, sola grazia. E voglio parlare più brevemente di sola grazia. Romani 3, 24, tornando al testo dove eravamo, dice sono giustificati gratuitamente per la sua grazia. La giustificazione è un dono, la salvezza è un dono della grazia di Dio. La grazia di Dio è l'applicazione del suo amore all'uomo ribelle e colpevole. È l'applicazione dell'amore di Dio a un uomo che non ha meritato nulla. La grazia di Dio è il suo amore, il suo favore non meritato, immeritato. La salvezza non è quindi motivata da qualcosa che abbiamo meritato noi o per qualche bellezza in noi o perché siamo amabili, ma per il mero favore di Dio, immeritato, Dio sceglie di salvarci. La salvezza è un dono. Siamo salvati per la grazia di Dio. Soltanto per la sua grazia e non per nessun merito nostro. La Chiesa Cattolica, invece, sostiene che la grazia non vede la grazia di Dio come il favore immeritato di Dio, ma come la potenza di redenzione infusa nel credente che ci permette di cooperare con Dio per la nostra salvezza. È la potenza di Dio incanalata dalla natura all'essere umano attraverso i sacramenti. Per mezzo dei sacramenti della Chiesa, il tesoro dei meriti dei santi e le opere, il fedele accresce i propri meriti davanti a Dio. E la Chiesa Cattolica, in diversi momenti, Papa Francesco compreso ultimamente, ha spiegato la frase, ha spiegato o ha usato la frase, sola grazia, come se fosse una cosa che crede lui. Ma sempre, la grazia nell'ottica cattolica è sempre questa potenza di Dio incanalata tramite i sacramenti, perché i sacramenti sono necessari per la salvezza. E quindi grazia per un cattolico romano è diverso, è diversa rispetto a quello che dice la Bibbia. E come può aiutarci questa dottrina, la sola grazia nell'evangelizzazione? E voglio di nuovo considerare alcune implicazioni, tre implicazioni. Voglio dare, vogliamo prima concentrarci su una comprensione biblica della natura del peccato. Vogliamo aiutare i nostri amici cattolici a concentrarsi sulla natura biblica, o su una comprensione biblica della natura del peccato. Voglio incoraggiare, vogliamo sempre incoraggiare riflessioni sui testi come Efesini 2, che dice che l'uomo è nato morto nel peccato, indulgendo desideri carnali, soggetto all'ira di Dio, che la nostra natura è proprio rovinata, morta, siamo spiritualmente morti a causa del peccato. I sacramenti, la grazia di Dio incanalata nei sacramenti non è veramente in grado di ribaltare questa situazione, non è in grado di trasmettere a noi la grazia di Dio, perché quello che la Bibbia dice che l'uomo ha bisogno di una risurrezione spirituale, l'uomo ha bisogno di una risurrezione spirituale che viene a causa dell'amore immeritato di Dio. Questo è il vero rimedio al problema del nostro peccato, e quindi vogliamo incoraggiare riflessioni su la necessità della nuova nascita, su una comprensione biblica della natura del peccato. Un'altra implicazione che ho trovato utile nelle mie conversazioni con i miei amici cattolici è di dimostrare le imperfezioni delle nostre opere più buone. Non è vero che possiamo accrescere i nostri meriti attraverso le nostre opere. Vogliamo incoraggiare i nostri amici a considerare le loro azioni, le loro opere più buone, anche la loro partecipazione nei sacramenti in un modo più profondo. Perché sotto la superficie di queste opere sono motivazioni e desideri spesso cattivi o motivazioni mescolate, egoisti e peccaminosi. Una considerazione del cuore nel senso biblico rivela l'impossibilità di fare qualunque cosa per Dio con tutto il nostro cuore. Dobbiamo sempre considerare i nostri motivi, i nostri pensieri e i nostri desideri che non sono mai 100% perfetti e quindi anche le nostre opere più buone sono mancanti davanti a Dio. E poi, un'ultima implicazione della sola grazia, credo nei nostri amicizi e i nostri rapporti con i cattolici, è di dare un esempio della gioia di ubbidire il Signore in un modo motivato dall'amore e della sua grazia, non dalla necessità di accrescere i propri meriti. La grazia di Dio è incredibile che noi abbiamo così tanti peccati nella nostra vita di cui noi non siamo neanche consapevoli. E se io dovessi mettermi lì a pensare, ma devo fare questo, quello, questo sacramento, devo fare questo per avere più meriti, sarebbe veramente difficile. Per la grazia di Dio, insieme alla giustizia imputata di Cristo, ci libera del dovere di meritare il favore di Dio, perché siamo accettati come Suoi figli già e questo dà in noi un amore per Dio, cioè fa crescere in noi un amore per Dio e quindi dobbiamo parlare della nostra motivazione che ubbidiamo Dio come figli amati da Dio, da un padre. Siamo liberati dalla condanna, non dobbiamo crescere i nostri meriti, dobbiamo aiutare i nostri amici cattolici a vedere che la nostra fede è autentica, è vera e noi viviamo la nostra fede in base alla scrittura per amore, per un amore vero per Dio, non per una necessità di guadagnarci o di meritarci la salvezza. Non stiamo cercando neanche di ridurre il nostro tempo nel purgatorio, ma viviamo con una viva speranza della vita eterna, a causa della grazia immeritata di Dio. Adesso vogliamo arrivare al quarto sola, quarto sola che voglio affrontare, solo Cristo, solo Cristo. E questa frase vuol dire tre cose, vuol dire tre cose, vuol dire che Gesù è l'unico sacrificio per il peccato, che Gesù è l'unico mediatore tra Dio e l'uomo, e che Gesù è l'unico salvatore del mondo. Romani 3, 24 e 25 dice che siamo giustificati mediante la redenzione che è in Cristo Gesù, che Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio, cioè un sacrificio che placca l'ire di Dio. Ci viene forse a mente prima Timoteo 2, 5 che dice infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù, nello stesso modo in cui c'è un unico Dio, c'è un unico mediatore tra Dio e gli uomini, Gesù Cristo. O forse ci potrebbe venire in mente Giovanni 14, 6 che dice quando Gesù disse io sono la via, la verità, la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Queste sono le verità preziose per noi, ci ralleghiamo, ci gloriamo, ci vantiamo di Cristo per questi motivi. La posizione cattolica invece sostiene per esempio per quanto riguarda la sufficienza del sacrificio di Cristo che la Messa è un sacrificio propiziatorio. Per quanto riguarda la necessità di un mediatore tra Dio e l'uomo, la Chiesa cattolica, per esempio il secondo concilio Vaticano dice infatti solo per mezzo della chiesa, della cattolica chiesa di Cristo che è il mezzo generale della salvezza si può ottenere tutta la pienezza dei mezzi di salvezza. E quindi per quanto riguarda la necessità di un mediatore tra Dio e l'uomo, la Chiesa si propone come il mezzo generale della salvezza. La chiesa, la cattolica chiesa di Cristo, secondo questi documenti, è il mezzo generale della salvezza. E per quanto riguarda la mediazione di Maria, il Vaticano 2 dice che Maria, l'unica mediazione del Redentore, cioè di Gesù, afferma che Gesù è l'unico mediatore, però poi dice questa unica mediazione non esclude, bensì suscita nelle creature una varia cooperazione partecipata da un'unica fonte. Ciò significa che in aggiunta alla mediazione unica di Cristo ci sono molteplici mediatori che cooperano con Cristo e trovano in Lui la loro sorgente. E quindi la Chiesa Cattolica Romana affianca a Cristo, aggiunge Maria, aggiunge se stessa come il sacramento della salvezza e aggiunge anche i santi e i sacerdoti. Quindi questo ovviamente va contro il concetto di Cristo come l'unico mediatore tra Dio e gli uomini. E poi è anche molto interessante che ultimamente con Papa Francesco, l'anno scorso, nella sua lettera enciclica, Fratelli Tutti, promuove, anche in altre fonti, promuove un tipo di universalismo in cui tutti sono figli di Dio, basandosi sulla verità che Dio è il creatore di tutti, che siamo tutti esseri umani. Quindi lui promuove un tipo di fratellanza comune che non ha come fondamento del Vangelo. Papa Francesco dice, per esempio, perché Dio non guarda con gli occhi, Dio guarda con il cuore. E l'amore di Dio è lo stesso per ogni persona, di qualunque religione sia. E se è attio, è lo stesso amore. Lui propone, propone o promuove una visione universalistica del mondo che sembra di smentire che Cristo è l'unico salvatore, che tu puoi essere un figlio di Dio senza Gesù Cristo. E questo mi ricorda di Giovanni 1 che dice, tutti quelli che l'hanno ricevuto, tutti quelli che hanno ricevuto Cristo, Dio ha dato il diritto di diventare figli di Dio, che noi diventiamo figli di Dio soltanto tramite Gesù Cristo. E Papa Francesco sembra di smentire questo, quello che ha scritto e detto. Quali sono alcune implicazioni per noi oggi riguardo alla dottrina di solo Cristo? Innanzitutto vogliamo dimostrare che Dio opera per mezzo della parola e lo spirito. Quando parliamo con i nostri cattolici vogliamo enfatizzare che Dio opera per mezzo della parola, la Bibbia e lo spirito. Questo ci aiuta a far breccia nello stretto legame che la Chiesa propone o sostiene tra Cristo e la Chiesa. La Chiesa sostiene che c'è questo stretto legame tra Cristo e la Chiesa come mediatori della salvezza di Dio. E senza minimizzare l'importanza del popolo di Dio, vogliamo dimostrare che Dio, il sovrano Salvatore, opera nel mondo per mezzo della parola di Dio e il suo spirito. Vogliamo dimostrare che Dio opera per mezzo di queste cose utilizzando noi come strumenti non infallibili, non autorevoli, ma che Dio utilizza Chiese imperfette sottomesse alla parola infallibile e lo spirito perfetto. Un'altra implicazione è che vogliamo incoraggiare una visione biblica di Maria. Vogliamo incoraggiare una visione biblica di Maria. Il modo migliore per onorare Maria è di lasciare che la testimonianza apostolica e storica plasmi il nostro concetto di Maria. Maria fu una donna grandemente benedetta da Dio. Portava a lei il Messia nel suo grembo. Il Salvatore del mondo aveva come sua mamma Maria, che è un grande privilegio. è un esempio, se vediamo la Bibbia, Maria è un esempio per tutti noi di sottomissione umile alla parola di Dio. Aveva una conoscenza profonda della scrittura. Era un adoratore fervente di Dio. Però non onoriamo Dio e non onoriamo Maria quando eleviamo Maria ad un ruolo non biblico, quando la nostra pratica devozionale è incentrata su di Maria. La Maria della Bibbia, la Maria storica e la Maria della Chiesa sono due persone diverse. E poi vogliamo rallegrarci, come ultima implicazione, rallegrarci anche davanti ai nostri amici cattolici nella sufficienza del sacrificio di Gesù Cristo e la sua vicinanza a noi, mentre noi applichiamo il Vangelo quotidianamente. Non vogliamo mai dare l'implicazione che siamo noi perfetti, siamo persone imperfette, però la cosa che ci dà pace è di sapere che il sacrificio di Gesù Cristo una volta per sempre ha placato l'ire di Dio, che non c'è un'altra sentenza di condanna contro di noi per i nostri peccati, non ci sono ulteriori conseguenze temporali per i nostri peccati, ma Gesù Cristo ha placato pienamente l'ire di Dio per noi, che lui è diventato peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato è diventato peccato per noi e questo per noi è la pace, è la nostra pace, è la nostra speranza. E quando cadiamo nel peccato in questa vita, noi possiamo confessarci direttamente a Dio Padre per mezzo di Gesù Cristo, sapendo che il sacrificio di Cristo una volta per sempre è sufficiente per il nostro perdono. E quindi noi ci rivolgiamo a Cristo quotidianamente e devono sapere questo. E devono sapere quanto è vicino a Cristo come sommo sacerdote, che simpatizza con noi nelle nostre debolezze, come l'Ebrei 4 dice, che possiamo accostarci al suo trono di grazia con piena fiducia. Mi chiedo a volte per un cattolico romano, se tu pecchi e non riesci a confessarti per un anno o per qualche giorno o per qualche mese, cosa fai per liberare la tua coscienza del peso di questo peccato? Ormai siamo arrivati alla fine del nostro tempo insieme. Nella mia esperienza con diversi cattolici romani, alcuni hanno questo senso di angoscia, che non riescono mai ad amare Dio abbastanza, non riescono mai ad amare gli altri abbastanza, non riescono a liberarsi dalle loro abitudini cattive. E questi tre sola che hanno a che fare con la salvezza, sola fede, sola grazia, solo Cristo, ci aiutano a porre una domanda cruciale nell'evangelizzazione, una domanda importante per i nostri amici cattolici. Possiamo chiedere, hai mai smesso di affidarti ai tuoi sforzi, ai sacramenti e alla Chiesa per procurarti o guadagnarti l'amore di Dio e il perdono dei tuoi peccati? Hai mai smesso di affidarti ai tuoi sforzi, ai sacramenti e alla Chiesa per procurarti o guadagnarti l'amore di Dio, per guadagnarti il perdono dei tuoi peccati? Questa domanda ci aiuta a capire se stanno veramente affidandosi a Cristo o a qualcos'altro. E se la risposta è no, implica che nel loro cuore non si sono fidati completamente di Cristo. La giustizia imputata per sola fede, il favore immeritato di Dio donato in Cristo, il suo sacrificio sufficiente per placare l'ire di Dio, sono le uniche cose che possono veramente liberare o sgravare una coscienza sporca e dare pace, gioia, certezza e speranza. Trovo molto strano, so il motivo, ma la Chiesa per quanto sostiene la sua autorità in questione di rivelazione, sacramenti, grazia e verità, in quanto mediatore, secondo le loro parole, della salvezza di Dio, la Chiesa cattolica stranamente non è in grado di offrire certezza sulla salvezza. La cosa più importante su cui possiamo essere certi è il nostro destino eterno. E tristamente la Chiesa, come mediatrice della salvezza, la Chiesa non è in grado di dare certezze sulla salvezza, perché la salvezza non avviene nel modo in cui loro sostengono, avviene in Cristo solo, mediante la fede e soltanto per la sola grazia. Il Vangelo Biblico ci riconcilia a Dio e dà all'anima una pace imparagonabile e dobbiamo incoraggiare i nostri amici cattolici a considerare la gioia, la pace, la libertà che viene dalle promesse di Cristo, come Giovanni 6,39. Questa è la volontà di Colui che mi ha mandato, che io non perda nessuno di quelli che Egli mi ha dati, ma che li risusciti nell'ultimo giorno. Che io non perda nessuno di quelli che Egli mi ha dati. La promessa di Cristo è chiaro, è confortante. Nessuno può strapparci dalla mano di Dio Figlio e di Dio Padre. Con amore e mansetudine dobbiamo incoraggiare i nostri amici cattolici a considerare profondamente se la loro fede in Cristo è compatibile con l'insegnamento della Chiesa Cattolica Romana. Se è salutare, affidare la propria anima a una Chiesa che ha abbandonato il Vangelo. Tragicamente, quando si aggiungono la tradizione alla scrittura, altri mediatori a Cristo, opere alla fede, un sistema sacramentale alla grazia, la conseguenza inevitabile è che l'uomo e la Chiesa prendono più importanza e Maria e i Santi vengono venerati, derubando Dio della gloria che Gli è dovuta. Salmo 115, uno dice, Non a noi, o Signore, non a noi, ma al Tuo nome da gloria. Quando annunciamo, quando promuoviamo il Vangelo Biblico, della giustizia imputata per sola fede, L'amore immeritato di Dio, come un dono, è la sufficienza e l'efficacia del sacrificio di Gesù Cristo. Dio soltanto riceve la gloria, perché al nostro Dio appartiene la salvezza, dall'inizio alla fine. Solo a Dio la gloria. Che Dio possa aggiungere alle nostre Chiese altri che lo adorano in spirito e verità. Grazie. 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 Grazie.